Ecco da questo lato la prima finale tra la Virtus Castelrentano con la classica divisa giallorossa contro la Virtus Lanciano con la classica divisa rosso-nera Gli arbitri stanno... Da questo lato campo A mentre dal campo B si contentano l'altra finale i ragazzi della Virtus Ortona contro la Quattro Colli Già hanno iniziato da questo lato Già hanno iniziato da questo lato Ecco la Virtus Ortona è la classica maglia giallo-verde mentre la Quattro Colli è la bianco-azzurra Il pubblico delle grandi occasioni qui a Castelrentano oggi domenica la quarta e ultima giornata del terzo Memorial Massimo Scalinzi Dopo queste gare ci sarà il cerimoniale, il cerimoniale di premazione e dopo grandi forzi d'artificio Eccolo dal campo A è passato in vantaggio la Virtus Castelrentano è passato in vantaggio 1-0 contro la Virtus Lanciano Grazie! Grazie!